Arresti domiciliari per gli imprenditori Marcello e Marco Perfili a seguito degli sviluppi dell'inchiesta certificati bianchi hanno ottenuto titoli di efficienza energetica a seguito di progetti di efficientamento presentati ma mai eseguiti. Oltre ai due imprenditori di Castro De Volsci ai domiciliari sono finite altre 5 persone, due di Treviso e gli altri tre di Padova, Milano e Cosenza. 28 gli indagati nell'indagine portata avanti dagli uomini della Guardia di Finanza di Treviso. Tra questi c'è anche un altro sciociaro, sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento in debito di erogazioni pubbliche e falso ideologico, sequestrati anche 110 milioni di euro. Già ad agosto Marco Perfili, su disposizione del giudice delle indagini preliminari di Treviso, era finito agli arresti domiciliari. Anche allora l'accusa riguardava certificati energetici, le indagini sull'operazione denominata energia cartolare sono scattate un anno fa e ha visto gli uomini delle fiamme gialle di Treviso indagare sulle dichiarazioni fiscali di società titolari dei certificati bianchi, valori irrisori o inconguri rispetto a quelli indicati dai clienti. In certi casi le dichiarazioni non venivano nemmeno presentate. I finanziari hanno contestato a 15 società di aver eseguito 3.900 interventi di efficientamento energetico e di averlo dichiarato in modo falso alla GSE, il gestore dei servizi energetici. Secondo le accuse, gli interventi consistevano nel sostituire vetri semplici con doppi vetri, isolamento di pareti e coperture per evitare la dispersione di calore o mantenere il fresco d'estate. Così ottenevano i titoli di efficienza energetica, contributi pubblici per incentivare la riduzione dei consumi energetici. Contributi che avrebbero garantito 110 milioni di euro. Per gli uomini della Guardia di Finanza si tratta soltanto di una parte di 500 milioni che gli indagati avrebbero potuto incassare.